Nonostante il forte vento che non ci porterà via, vi aspetto domani al concertino dal balconcino di Daria e Maxim, sarò ospite in via Mercanti 3 e leggerò un mio racconto tratto dalle comiche di Sapo, dal titolo La Corsa alla Differenziata. Vi aspetto, mi raccomando e un saluto dalla Valpellice. Ciao!